La sfida di cartello del comunale tra Vigortrani e Bitonto, le trasferte della capolista Fasano ad Otranto e dell'inseguitrice Gallipoli a Bieste, la sfida salvezza Novoli-Barletta e tanti incruci interessanti per una giornata numero 25 del campionato d'eccellenza pugliese che si preannuncia ricca di contenuti. La sfida principale di giornata, classifica alla mano, sarà senza dubbio quella tra Vigortrani e Bitonto. Gli uomini di Pizzulli, reduci dalla sgambata con il Galatina e proiettate alla decisiva sfida di Coppa Italia in programma al Lago Negro mercoledì, tenteranno il sorpasso ai danni dei Neroverdi, avanti di due punti, ma reduci dal buon punto strappato sul campo del Gallipoli, utile per spezzare la serie negativa culminata con il K.O. contro il Fasano, che ha tarpato le ali di una squadra fino a quel momento in lotta per la prima posizione. A proposito di prima posizione, ad occuparla adesso è il Fasano, che sul campo dell'Otranto andrà a caccia del quinto successo di fila, ma dovrà fare i conti con una squadra, quella di Bruno, sempre ostica e con la necessità di conquistare punti salvezza. Assolutamente ostica è anche la trasferta che vedrà protagonista il Gallipoli, secondo in classifica a meno tre dalla battistrada, sul campo di una delle squadre più in forma del campionato, l'Atletico Vieste, imbattuto da quattro giornate e reduci da due successi consecutivi, che l'hanno allontanata forse definitivamente dalla zona calda. Chi nella zona calda c'è dentro fino al collo e punta ad uscirne è il Barletta, che dopo il bel successo con il Casarano andrà a Novoli per sfidare una diretta concorrente, con l'obiettivo di cambiare passo lontano dalle Muramiche per dare l'assalto alla salvezza diretta. La salvezza diretta è anche l'obiettivo dell'Unione Calcio Biceglie, che dopo il solo punto conquistato negli scontri diretti con Vieste e Otranto, farà vista ad un Casarano ferito dal capo di Barletta e chiamato a riscattarsi per non farsi risucchiare dalle squadre a ridosso della zona play-off, tra le quali ci sono Avetrane e Omnabitonto, protagonisti dei match casalinghi contro Molfetta e Atletico Aradio. A chiudere il programma delle gare previste dal turno numero 25, la sfida che vedrà il Corato ospitare il derelitto Galatina, con l'opportunità, oltre che di allungare a 11 la striscia positiva, di guadagnare punti sulle rivali e sperare ancora nell'aggancio alla quinta posizione.